buongiorno a tutti signori oggi video a tema sicurezza ma non sicurezza come la se intende solitamente sui canali fai da te nei laboratori durante le lavorazioni bensì di sicurezza nei laboratori anche ma mentre non stiamo lavorando anzi mentre non ci siamo perché vi voglio presentare un prodotto che mi è stato mandato da testare trattasi di questa simpatica videocamera wifi motorizzata con pannello fotovoltaico della payload io penso che lo utilizzerò o qua in laboratorio o nel cortile giusto per tenere controllata tutta la faccenda ma andiamo nella stanza degli unboxing per vedere cosa contiene lo scatolotto neanche a dirvelo troverete nella descrizione del video il link a questa videocamera in modo che se volete andare a vedere nel dettaglio tutte le varie cose trovate tutto lì prendiamo dunque lo scatolotto e andiamo ad aprire voilà il contenuto è la videocamera motorizzata che andiamo a spacchettare vediamo un po ok sì la struttura è plastica qua sotto c'è un QR code non so se si vede e le sue due belle antennine appoggiamola qui sembra vuoto ma eccoci qua guarda un po abbiamo uno scatolotto quadrato cubico che contiene ha un supporto per fissarle eventualmente al muro con questi tassellini e questo supportino qua che è quello che va poi contro il muro snodato classico come quello delle videocamere delle fotocamere insomma lo conoscete tutti cavetto usb immagino sia per la ricarica altri tassellini user manual e qua sotto dovrebbe esserci l'ultimo scatolotto del gruppo vediamo un po olè il pannellino fotovoltaico ora mentre la guardiamo qua vi passeranno tutte le caratteristiche di questa videocamera motorizzata qua dietro ecco vedete mi sbagliavo questa ha i quattro fori per poterla fissare al muro con i tasselli mentre dietro al pannello fotovoltaico come potete vedere qua c'è una boccola filettata nella quale potremo andare a inserire probabilmente questo supporto fatemi vedere sì che si avvita e ci permetterà di andare a fissare contro il muro il pannello andando ad angolarlo nella maniera migliore possibile verso il sole il pannello è già dotato del suo cavo che termina con un usb per andare immagino a fissarla da qualche parte qua andiamo a vedere nel dettaglio la videocamera qua sotto come potete vedere c'è una parte protetta da questa serie di guarnizioni diciamo così in gomma apriamo qua c'è foro d'ingresso per l'alimentazione qua poi andiamo al prossimo qui c'è una presa usb e qui sotto c'è il simbolo classico dell'accensione quindi fatemi vedere se c'è un pulsantino come potete vedere qua davanti a la videocamera i proiettori infrarossi e il pire il sensore di movimento questa è motorizzata ora andiamo a collegarla al software ea configurarla per prima cosa ho acceso la videocamera dal pulsantino qua sotto mi sono scaricato l'app proprietaria fornita dal produttore chiaramente mi sono registrato perché tutte queste app vogliono il loro account e adesso andiamo ad aprirlo abbiamo i dispositivi dove possiamo andare aggiungere altri i video in cloud perché comunque come tutte questo tipo di videocamere vi dà una prova gratuita di tot giorni dove vi salva la robin cloud poi ovvio ha rilevato il movimento poi o vi registrate oppure potete guardarla soltanto live dicevamo il cloud ve l'ho spiegato dopodiché nell'album ci sono tutte le cose che ha salvato che voi avete salvato mentre stavate guardando e poi vabbè ci sono il come si chiama il nostro account dove c'è mail servizi vari contattaci degnosi di rete eccetera eccetera io per la prima volta l'ho caricata tramite cavitù usb con un alimentatore classico da cellulare una volta arrivata carica andremo ad attaccarci il pannello fotovoltaico se la mettiamo all'esterno perché all'interno possiamo continuare ad alimentarla con un usb in modo che la batteria sia sempre carica dopodiché se siamo con il pannello fuori anche se lei è dentro ma il pannellino riesce ad arrivare con l'alimentazione alla telecamera noi se ne dimentichiamo bellamente quindi come funziona l'app se andiamo nei miei dispositivi come potete vedere ci fa vedere l'anteprima di quello che lei sta vedendo andiamo ad aprirla vedete che c'è la possibilità di togliere mettere l'audio scattare una foto registrare un filmato in centro c'è il microfono perché ci dà la possibilità di parlare tramite cellulare e far uscire la voce dalla telecamera e quello in fondo penso che sia il discorso del cloud ora ingrandiamo tutto schermo giro il telefono e vi faccio vedere come con questi quattro pulsantini è possibile andare a registrare vedete quella è la videocamera con la quale sto registrando e questo è il mio laboratorio si vede molto bene a colori ed ha la registrazione notturna proviamo giusto per sfizio a piazzarla da qualche parte qua nel laboratorio e vediamo l'effetto che darebbe quindi la mettiamo mi ha beccato la mettiamo a nulla guardate la incastriamo qua in maniera molto grezza come potete vedere giusto per fare una prova lei sta continuando a rilevare il movimento io vengo qua da voi e andiamo a muoverla entriamo nella fotocamera nella videocamera perdonatemi tutto schermo vedete che sta registrando qua quindi che facciamo tiriamo su un po di confusione sul mio banchetto e giriamo signori cucù ciao ciao e come avete visto questo può essere molto comodo quando siamo lontani dal laboratorio ora non è che per forza di cose vada a messa al laboratorio io penso che la potrei piazzare la in cima nell'angolo in modo da avere una visione a volo d'uccello oppure potrei sfruttarla per controllare il pollaio che probabilmente è la cosa anche più indicata essendo questa resistente anche alla pioggia e tutto quanto e avendo il suo pannellino la posso mettere là l'importante è che dove la metto arrivi il segnale wifi perché se no io non riesco a interfacciarmi con la simpaticona segnale wifi che se non siete proprio lontanissimi e avete diciamo una spina magari nel mezzo del tragitto riuscirete a portare anche con un ripetitore di segnale ora signori che dire io la telecamerina e il pannello fotovoltaico mignon vi abbiamo detto tutto quello che vi dovevamo dire vi ringraziamo se siete rimasti fino qui in fondo nel video procederò alle installazioni da qualche parte nel caso su instagram e vi farò vedere dove l'ho messa giusto per darvi un'idea mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like e le solite cose noi ci vediamo nel prossimo video